Musica Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Siamo tornati su Last Die Of Allora, continuiamo Eh già Quindi dobbiamo ripercorrere la strada Ok dai, prendi la sedia a rutelle E andiamo Allora, passo di qua E andiamo qua Ricorda Ok, siamo nelle panni del cacciatore Il bambino torna indietro I pacchi non cadono Cosa succederà mai? No, pensate che non sono i pezzi Eh già Andiamo un po' Come dobbiamo fare Si apre la porta E andiamo Allora Ok, allora Poi forse aveva perso il bambino Qua mi sta dando un regalo Ok, con il regalo è felice Perché può pitturare E qua cos'è? Ah, sta indicando la strada dove andare a pitturare Ah, non posso passare Però se faccio il giro Ok, si posso Dai Ok, ce l'abbiamo fatta Dai Con le girellia Ok Ok, si è aperto il quadro Ok, noi dobbiamo tornare A casa Mamma mia E dai Passo a ricordarmi La casa Dove era Ah, non è questa Vabbè di qua Ok Ok Ok, siamo nei panni Il cacciatore Salvala Ok Ok, quello penso che sia suo padre Che era un cacciatore Ah, ecco perché gli dà la caccia Ah, ecco perché gli ha rubato la medaglia No, stai Un bambino che è ridere Ah 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 Infatti E' pericoloso Un bambino che vuole giocare Ok 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 Allora Ne vanno E noi Cosa dobbiamo fa Sulle 6 Ok 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 Allora Il bambino gioca col cane La titta C'ha i pacchi legati Quindi Questo deve fare Eccolo lì Picciunazzo Ecco dai Qui è fucile Andiamo a ucciderlo Dai Ok 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 Allora Chiama il cane Ok Quindi Il cane Non viene Perché Sta giocando Quindi Chiama il cane Di nuovo So Il cane Perché non lo può fare? Eh, chiama il cane, l'ho fatto prima. Quindi forse... Ah, non era qua allora. Spara. Quindi ora devo seguirlo. Di qua. Ok. Stupido piccione. Ok. Quindi va di qua. Però non posso. È bloccata. Come cazzo la aprono? Come ci arrivo di lì? Forse dall'interno? Bantaglie. Vabbè, intanto vado a prendere questo. Ricordi. Ok, suo padre giocava con lui e non voleva. Ok, quindi in teoria andando qua. Però aspetta, prima di tutto, non è che mi dimentico. Apri sto portone. E poi ti sparo. Ok. Ok. Ok, allora. Proseguiamo. Ok, io ora lo metto lì, io andando là a prenderlo, cade. Con quello del giorno. Ok, io andando. Ok. Quindi. Devo andare dal bambino. Riavvolgi. Ok. Ok, invece di giocare col cane. Devo andare qua. Devo trovare... Dove cazzo era il mondo? Aspetta, intanto io voglio buttar giù queste. Allora. Non voglio giocare. Ah, c'è, eccola. Non da qua. Ok, abbiamo concluso il giorno, no? Quindi lui gioca quello a chilone. Ok. No. No, no. Ah, quindi lei non ha più la corda. quindi cambia anche la storia di lei ok ok lui vede lui che gioca vede che lei arriva ok quindi devo andare da lui li avvolgi quindi visto che il cane libero posso chiamarlo quindi io prendo il cane e lo metto qua anzi no lo devo mettere ah aspetta perché lui poi se io metto il cane qua ok io metto il cagnolino qua poi sparo quindi torna indietro quindi si metto il cane qua ok quindi sparo il cane lo spaventa il cane lo sparo qua ok 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 spara di nuovo si 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 spara mi apre il passaggio ok dov'è sta uccellaccio quindi se io il cane lo metto qua ok in teoria per logica vai ok ok quindi il cane lo metto qua ok ok e questo glielo spisca proviamo proviamo così vediamo se ho fatto bene no quindi il cane lo metto qua no allora aspetta no il cane lo devo mettere qua metti il cane qua si scusa si scusa cannes si sta facendo trebolare però devo capire dove cazzo va sto piccione bene allora ok 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 sono andato sono andato meno male ok quindi il cane non lo posso mettere poi io provare poi io proverei a sparare oh che ce l'abbiamo fatto mamma mia allora quindi apro qua vediamo un po' qua c'è la corda per la tita non posso entrare non posso entrare non posso entrare hm quindi mi ora non non però non non ok ok quindi è già caduto quindi non può impedire la morte adesso la morte e la causa il pazzo eh per forza ok ragazzi ci vediamo un po' alla prossima volta ciao